Le due parole cardine potrebbero essere conservazione per quanto riguarda l'edilizia e mantenimento e potenziamento dei servizi già esistenti. Sì, dici bene proprio perché fondamentalmente noi siamo partiti chiaramente dai concetti di fondo che ci guidassero nelle scelte da fare, quindi nella valutazione delle proposte che sono poi state avanzate sia dai cittadini privati attraverso i tecnici o le aziende che hanno proposto alcuni interventi. Fondamentalmente però chi vede la cartina del comune di Leffe o una vista dall'alto si rende conto che il territorio negli anni 50, in particolare 60 e ad oggi quindi è stato già fortemente urbanizzato. Oltre ai vincoli chiaramente che pone la provincia come piano di coordinamento provinciale e quindi che tendono a preservare il territorio, anche noi però fondamentalmente abbiamo ritenuto importante non concedere ulteriori aree di edificazione, di urbanizzazione, proprio perché già quelle previste con il precedente piano e quelle realizzate negli anni 50, 60, 70, insomma negli anni del vero sviluppo economico del territorio di Leffe hanno fatto sì che il territorio fosse utilizzato in gran parte e quindi, ecco, ripeto, abbiamo preservato il territorio come area verdi. Però chiaramente concederemo, insomma, poi fondamentalmente quello che è l'auspicio che come amministrazione ci poniamo è quello di poter, insieme agli operatori privati, favorire la trasformazione di aree che sono già edificate ma che magari sono dismesse per quanto riguarda le attività produttive e quindi la possibilità con il privato di poter definire in queste aree una realizzazione di interventi magari misti, quindi dal produttivo al commerciale piuttosto che residenziale. Il PGT è uno strumento flessibile, quindi quello che andiamo a provare non è un qualcosa di rigido che poi resterà così per anni, per i 5 anni che fondamentalmente sono quelli che la legge prevede che duri il piano, ma è uno strumento flessibile attraverso il quale il dialogo fra l'operatore privato e l'amministrazione può dar vita a delle risposte che diano beneficio all'operatore privato ma anche chiaramente alla parte pubblica. Un'ultima domanda ed obbligo, il vostro mandato è agli sgoccioli, quindi chi utilizzerà questo strumento? Ma sicuramente noi siamo ben felici di aver portato a termine questo lavoro e tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti della commissione tecnica del gruppo di lavoro del territorio e dell'ambiente che per un anno circa si sono trovati quasi settimanalmente ad analizzare tutte le richieste, tutte le una ad una le richieste appunto e le osservazioni già precedenti all'adozione del piano. È stato un lavoro molto dettagliato che credo darà un buon impulso all'attività edilizia qui nel Comune di Leffe proprio perché ci sono diverse richieste che invece voglio dire abbiamo accontentato, se vogliamo dire così, proprio perché magari potevano essere migliorative per quanto riguarda sicuramente l'interesse del privato ma anche quella del pubblico. Io credo che questa sia la cosa più bella, poter concludere serenamente il nostro mandato lasciando a chi verrà e qui poi nei prossimi mesi credo si dovrà chiaramente definire anche da parte del nostro gruppo che comunque come idea ha intenzione di continuare nella propria attività amministrativa.